Come possiamo capire Radhika? Come possiamo uscire il nome di Radhika? Perché siamo molto lontani da lei, da l'amore. Perché ci stiamo praticando solo per conoscere Dio? Dopo Dio voglio sapere un po' di Krishna. Di opulenza e poi dopo voglio conoscere anche Krishna. Però come può comprendere il Signore Supremo questa piccola mente? È possibile? No. No. Brahma, il nostro padre, quando ha apparso, allora voleva scoprire la sorgente da cui lui veniva. Allora cominciò a cercare, però non poteva trovare la via per conoscere questa sorgente. Allora cominciò a pregare. di cui non posso trovare la via per conoscere. Cosa significa, quindi, questo pregare? Arrendersi, affidarsi. Mi arrendo a te. Mi arrendo a te, quindi, per favore mostrami qual è la mia sorgente, da dove provengo. E dopo allora conoscere da dove veniva. Cosa significa questo insegnamento? Questo insegnamento? La tua mente non può sapere il Supremo. Tu devi credere. Tu devi avere la fede. Tu devi avere la fede. Tu devi avere la sua relazione. Tu lo puoi sapere molto facilmente. Cosa ci insegna? Che attraverso la nostra mente non possiamo arrivare al Supremo. Dobbiamo avere fede. Dobbiamo sviluppare una relazione. I understand. Yes. So this is the way of relationship. Quindi questa è la via della relazione. E la relazione incondizionata deriva da una coscienza incondizionata. I understand? Both are there. Conditional also there and unconditional also there. What you want to use that is your dependent upon both are right. In questo mondo troviamo la relazione incondizionata e incondizionata. Sa noi decidere quale vogliamo... Material also there and divine also there. What you want to use and how you make your process. C'è il materiale e il diritto, dipende da noi come vogliamo avere il nostro progresso, quale strada vogliamo prendere. Right? Ma lui dice che non usate le cose condizionali, non vivete nella vita condizionali, vivete nella vita condizionali, ma potete migliorare il modo non condizionale. Non c'è detto di rinunciare alla vita condizionata, alla vita materiale, di vivere in questa vita materiale condizionata, ma coltivando, andando verso l'amore incondizionato. Entendete o no? Sì. Sì. Prima di questo era più grande, la condizionata era più grande, si sviluppa qualche cosa condizionata più grande, automaticamente diventerà più piccola. Quindi come funziona la bilancia? Perché prima abbiamo più alta la relazione condizionata, l'amore condizionato. Se però rendiamo quello incondizionato maggiore, allora quello condizionato diminuirà. In maniera naturale. Sì. Sempre. Prendete un domande. C'è qualche domanda. La relazione è importante, la relazione è importante. Il Prabhupada scrive su relazione in introduzione, page 4. Io sempre direi seriamente a ogni posto, ricordo a ogni posto, la relazione è importante, la relazione incondizionata, la relazione divina, la relazione spirituale è importante. E questo rende l'asthaibhav. La relazione incondizionata è molto importante, lo ripeto sempre in tutti i posti. Da questa relazione incondizionata, arriviamo all'asthaibhav, in un sentimento fisso. You will fix yourself. Centreremo noi stessi. Questo è Samandha e Abhideha insieme. Ora puoi vedere il Prabhupada, puoi vedere il obiettivo della vita, puoi sentire che il Prabhupada è il Prabhupada, e allora dove fare l'amore? È l'amore da dove fare? Quando il nostro amore sarà incondizionato, allora potremo vedere qual è l'obiettivo, il Prabhupada. No. Quindi vogliamo agire in modo condizionato o incondizionato? Quindi vogliamo agire in modo condizionato o incondizionato? Ho capito? È chiaro o non? Sì? Io vorrei sapere se questo amore incondizionato è più riguardo a Krishna o a tutti? Dilla anche in italiano. Se questo amore incondizionato deve essere rivolto più verso Krishna o verso gli altri, verso le altre persone. Se questo amore incondizionato è... scusami? In inglese. In inglese. Oh, se questo amore incondizionato è più riguardo a Krishna o più riguardo a tutti, a tutti vivi. In inglese. Non è facile. È molto facile da capire questa cosa. Hai un amore. Non? No, sì. Krishna, magari, io ti dico nel mondo materiale. Hai un amante. Sto parlando di Krishna e del mondo materiale. Close questo. Non c'è il telefono, por favor. Close tutti i telefono, mio amore. Si. Hai un amante. E lui possiede dei gatti e dei cani. E lui possiede dei gatti e dei cani. E lui possiede dei gatti e dei cani. E lui non ti piace, ma vai al tuo amore, e lui amare anche i cani e i gatti. Perché? Perché sono i cani e i gatti del tuo amante. Quando ti amare Krishna, amare tutta la sua creazione. Perché tutti noi siamo i cani e i gatti. Perché quando amare Dio, amare tutta la sua creazione. Tutta la sua creazione. A destanza. Io volevo fare questa domanda breve, breve. Io non ho capito. che vuole fare la prima domanda. Perché se non è un'altra domanda. Però in certe situazioni, qualche volta, non possiamo amare le creature, perché ci dobbiamo difendere o nell'economia, nel business, nel lavoro. Solo in certe situazioni, però, un secondo, che ti devi difendere, no? Se sei, se ti vuole danneggiare, o economicamente, o sul lavoro, o materialmente, del contatto di risposta. Cioè, te siete tre, quello sentire il maestro. In alcune situazioni, che ci troviamo difficoltà di amare, perché magari abbiamo, qualche cosa, qualche volta, con qualcuno, qualche discussione, con il lavoro, o qualcosa di altro. Quindi, abbiamo trovato difficoltà di amare. A volte, qualche volta. A volte, non sempre. Io d'accordo con te. Perché siamo così condizionati. Se la mia condizione non è rilassata, non siamo nessuna relazione. nessun negozio. E se quindi, se quel tipo di discussione che io ho, non soddisfa la mia condizione, allora, non amerò. Tutto è basato sul condizionamento. Trampi e condizioni. Tu fai questo, io fai questo. Tu fai questo, io fai questo. Se te fai quello che voglio io, allora, anche io agirò di conseguenza. Proverò ad amarti, altrimenti no. Certo? questo è il punto. Perché non vogliamo realizzare me e me, non vogliamo connessi con il Dio, non vogliamo connessi con il Dio, non vogliamo amare con il Dio, che posso amare ogni creazione. perché, perché non voglio connettermi con Dio, non voglio amarlo. In questo modo non posso connettermi in amore neanche con tutta la sua creazione. io ho dimenticato me stesso e quindi ho dimenticato anche il Signore. e quindi ho dimenticato quale è la relazione che c'è tra me e Lui. e quando mi comincerò a guardare a te, tutti saranno miei fratelli e sorelle, perché tutti saranno miei fratelli e sorelle, anche i nemici non li vedrò come nemici, perché lì dentro vedrò il Signore. lo vedrò come un'insegnamento che proviene da Dio. Questa è la tua misericordia, io sentirei lì anche qui. Tutto ciò che è in tua creazione è positivo per me. Quando avrò una relazione con Lui, allora questa realizzazione arriverà dentro di me e di conseguenza verrà nelle azioni della mia vita. Quando mi disconnecto con Dio, però quando mi disconnecto con Lui, allora nuoterò contro il flusso della corrente. Quando vogliamo nuotare con il flusso della corrente, allora questo non provoca dolore, non c'è alcun sforzo. cerchiamo di nuotare, di lasciarci andare nel flusso della corrente. e per quello dobbiamo incrementare la nostra coscienza spirituale. cos'è la vita spirituale? cos'è la vita spirituale? cos'è la vita spirituale? cos'è la vita spirituale? i sentimenti? i sentimenti? cos'è la vita spirituale? se non abbiamo sentimenti, allora in realtà stiamo facendo vita materiale, non spirituale. come questo comodino che non ha dei sentimenti. Se avete un sentimento, se avete un amore, se avete un attaccamento, avete una relazione divina, siete spirituale. Se mi cambio solo i vestiti esteriori, in realtà, quella non è vita spirituale. Questo deve essere importante. Se un armario non ha dei sentimenti, come questo armario non ha dei sentimenti. Questa sede non ha dei sentimenti. Quindi anche noi siamo simili all'armario oppure al muro se non abbiamo dei sentimenti divini. In questo mondo materiale, questo amore incondizionato è quasi impossibile da trovare. In questo mondo materiale è molto... Rade, rade. Rade, rade. 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 e possiamo raggiungere questo mondo spirituale vivendo in questo corpo materiale. Come materiale, il mio cuore, i miei sensi, tutto il mio mente e il corpo, se io lascio questo corpo, questi sensi, questa carne, diventerò un fantasma. Questo è anche importante, il mondo materiale, questo è il mio mondo materiale e questo è importante per realizzare il mondo spirituale. Quindi questo corpo è importante, perché altrimenti appunto se uno lo lascia diventa un fantasma, è importante per realizzare la coscienza spirituale. Questo è il mio sadhana, questo è il mio bhajan. E questo deve essere il mio bhajan. Ok, è giusto o è vero? È giusto. Oh, non ho? Non sono d'accordo. Ho detto, no, non so d'accordo. You have to agree. Because this is the happening. I went to Assisi. And I meet with the priest. I say, why this place is important? Because he is in meditation here. What meditation? What he get from meditation? Self-realization. You see? That Self-realization. Who are you? That Self-realization. The Self-realization. The Self-realization of it is to know who we are. Then what happened? Everybody knows his life. Even the birds, animals start coming. Quando lui realizzò il sé, tutti gli animali cominciarono a venire a lui. Non sentivano nessun disturbo da andare verso di lui, erano come degli amici. Perché? Perché quando il suo padre dice che questo vestito è il mio vestito, è un vestito molto costoso, perché ti metti questo vestito? E in fronte di tutti gli animali apriva il suo vestito e fu fuori. Perché? Perché? Perché sapeva che era l'anima, non era il corpo. Questo vestito di plastica, non siamo il vestito di plastica, è un vestito, è un vestito. Noi non siamo questa copertura, questo corpo. Grazie. 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 e quello significa dare misericordia alla propria anima. Nameruchi means taste in name, not namabhas. Namabhas no taste under pressure I am doing. Because of my Gurudev, he gave me instruction to do. This is under pressure. Nameruchi significa avere gusto nel bhajan, non è namabhas. Non è cantare, fare bhajan solamente perché ce l'ha detto il guru, e quindi è una forzatura. E quando il gusto arriva, si scorrerebbe da altri per farlo. Questo è gusto. Questo è ruchi. Allora potremmo riconoscere il nostro sé, la nostra anima. Che siamo delle jiva. Jivere sarupahaya nitte krishna dat. E realizzeremo che l'anima è sempre relazionata al Signore. Qualcuno può dire che è il figlio del Padre di Dio. Qualcuno può dire che è il figlio del Padre di Dio. Dall'anima è la relazione condizionata o incondizionata. Dall'anima. 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 Incondizionata. 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 Eccondizionata. Cazzo. Eccondizionata. Bimbi. Eccondizionata. 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 Se noi comprenderemo che l'amore di Gesù era incondizionato con suo padre, allora comprenderemo molte cose. E se noi rendiamo il suo amore condizionato, non potremo mai realizzare niente. Scusate, ma mi diceva, è che ci saranno, che ci saranno, che ci saranno mai capire, che ci saranno la differenza. No, scrivete questo termine. Io sono un ucciso, ma mi diceva anche Gesù con Krishna, ma con la relazione spirituale non è nulla differenza di son e padre. Non c'è differenza. Se noi non comprenderemo questo amore, come potremo comprendere il Padre? Se non comprendiamo cos'è l'anima, come possiamo capire cos'è la superanima? Sì? Giusto? Sì. Non ho provato mai un amore incondizionato per qualcuno. Cosa devo fare per avere uno spunto di quest'amore incondizionato? Non ho provato mai un amore incondizionato per qualcuno. Cosa devo fare per avere uno spunto di quest'amore incondizionato? Il Guru dice, devi prendere rifugio nel tuo Gurudeva. Scusate, devi prendere rifugio nel tuo Gurudeva. Scusate, devi prendere rifugio nel tuo Gurudeva. Il Maestro è l'unico modo in cui saperemo un piccolo test che la mia vita cambierà. Ma non è un obiettivo, provate di capire. Maestro è solo la via, non è un obiettivo. Il maestro è solo la via, non è un obiettivo. Il obiettivo è solo la via, non è un obiettivo. Ma se lasciate la via, non potete capire l'obiettivo. Quindi non lasciate mai il proprio Maestro spirituale. Guru Mata, Guru Pita, Guru Honpati. Tutto il Guru, puoi vedere tutto nel Gurudeva. Il Guru è tutto. Anche le relazioni, può essere la madre, il padre, un amico. Amico, tutto. Tutto veloce. Il Maestro spirituale si può relatedire con noi in alcun tipo di sentimento, di relazione. sono relazioni incondizionate non è che gli diamo dei soldi allora lui ci mostra qual è la via non c'è business lei dice che qualche volta amiamo il nostro guru in maniera incondizionata ma allo stesso tempo amiamo gli altri in maniera condizionata I will act like a conditional way to him because I know only conditional way I will act also like a material world I will act also I will act conditional way to Gurudev, not unconditional way in realtà se io agisco in modo condizionato verso gli altri allora agirò in modo condizionato anche verso il guru non ci sono faccio maniera incondizionata perché la mia natura è quella non è che con una persona una cosa un'altra persona un'altra ma per la sua misericordia lui darà questa realizzazione delle cose incondizionate però per la sua misericordia possiamo realizzare qual è l'amore incondizionato lui aprirà il nostro terzo occhio lui aprirà il nostro terzo occhio la nostra visione divina per comprendere tutto ciò è tutta questione di realizzazione non possiamo andare avanti non possiamo andare in senza la realizzazione di quello senza il terzo occhio di quello puoi sentire, puoi realizzare non possiamo andare avanti senza realizzare tutto ciò dobbiamo arrenderci avere fede cosicché la nostra visione divina possa svilupparsi posso? ciò che sto dicendo ti comprendete questo? sì sentite questo? sì ha chiesto anche a noi se comprendeva questo che sta spiegando il canale ha detto sì lo senti? ha detto lo senti? da quanti anni mi conosci? da sei anni quanto tempo stai vicino a me? da più di due anni è chiaro ciò che ho spiegato? lui è nella vita di famiglia ce l'ho messo io nella vita di famiglia quando lui è venuto a me non è che gli ho chiesto quanto bhaja non ho chiesto tanto bhajan ma anche l'ho messo come lo senti 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 ma lo senti bhajan farai perché io ho aprire i tuoi occhi non puoi vivere senza bhajan questa è la tua vita ora io non ho mai chiesto di bhajan ma lo senti non ho mai chiesto di fare il bhajan ma lo senti e quindi adesso il bhajan è la tua vita non puoi mai smettere di fare bhajan E' diventato naturale? Dice qual è la mia domanda, è giusto? Tutto quello che dici è giusto. Ti chiedi a lui, lui è giusto, è giusto, non è vero che ho capito, cosa ti chiedi? Perciò faremo un bhajan? Perché non faremo bhajan? Io abrivo la visione, non possiamo vivere senza bhajan. posto nella vita materiale, poi il Bajan verrà naturalmente. Perché ci associamo con Gurudeva?